buongiorno a tutti sabato ci sono riparte il campionato stasera è venerdì ci sono già gli anticipi ho già fatto le schedine sono già online quindi adesso partiamo con le partite di sabato domenica per quanto riguarda gli altri campionati quindi si parte subito col campionato spagnolo perché giocano la prima partita alle 13 quindi si parte subito con uesca alaves 1x real madrid celta vigo 1 atletic bilbao atletic madrid x2 legan girona 1x eibar valladolid 1 espagnol siviglia 1 2 valencia getafe 1 villareal raio vallecano 1 real betis barcellona schienina alternativa uesca alaves over 1 e mezzo real madrid celta vigo over 2 e mezzo atletic bilbao atletic madrid over 1 e mezzo legan girona mi arrischio un gol eibar m aladolid mi arrischio gol espagnol siviglia gol valencia getafe over 1 e mezzo villareal raio vallecano over 1 e mezzo betis barcellona over 2 e mezzo vediamo poi come andrà bollettine scelto le solite quattro partite eibar valladolid 1 valencia getafe 1 villareal raio vallecano 1 betis barcellona 2 con 5 euro se ne vincerebbero 37,40 seconda bollettina eibar valladolid 1x valencia getafe 1x villareal raio vallecano 1 betis barcellona 2 con 5 euro se ne vincerebbero 16 20 e la solita bollettina per vediamo di vincere qualche cosa terza bollettina eibar valladolid 1x piove 1 e mezzo valencia getafe 1x piove 1 e mezzo villareal raio vallecano 1x piove 1 e mezzo betis barcellona 2 piove 1 e mezzo con 5 euro se ne vincerebbero 22,96 quarta bollettina eibar valladolid gol ospite valencia getafe gol ospite villareal raio vallecano gol ospite e betis barcellona gol casa con 5 euro se ne vincerebbero 27,45 veniamo alle due bollettine folli valencia getafe gol piove il no gol piove è nettamente favorito di un punto quindi se il gol piove è dato a 3 il no gol piove è dato a 2 eibar valladolid gol piove in questo caso invece il gol no gol piove è favorito ma solo di 0,50 quindi se il gol piove è dato a 3 il no gol piove è dato a 250 villareal raio vallecano gol piove è favorito il gol piove real betis barcellona gol piove è favorito il gol piove comunque con questi quattro gol piove di queste quattro partite con 5 euro se ne vincerebbero 141,82 ultima bollettina valencia getafe quella folle valencia getafe 1 più gol piove eibar valladolid 1 più gol piove bilareal raio vallecano 1 più gol piove e real betis barcellona 2 più gol piove con 2 euro se ne vincerebbero 321,30 quindi bastano e avanzano poi se uno è invincita vuole rischiare con 5 euro ne vincerebbe 803,25 detto questo io vi saluto vi ringrazio e mi appresto a fare il campionato italiano ciao 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 ciao